Mara Venier è stata accusata di molestie sessuali per la sua palpatina ad Alvise Rigo. Ma cosa è successo? Sono passati pochi giorni dal triste episodio che ha coinvolto la giornalista Greta Beccaglia e oggi qualcuno accusa Mara Venier di molestie sessuali ai danni di Alvise Rigo. Ma cosa sta succedendo? Leggi anche, GFVIP, Valeria Marini e Francesca Cipriani, perché hanno litigato? Cosa è successo in passato? Mara Venier accusata di molestie sessuali su Alvise Rigo Mara Venier è furiosa, dopo l'ultima puntata di Domenica in, la conduttrice è stata accusata di molestie sessuali ai danni del modello Alvise Rigo. La zia, della televisione italiana ha accolto il suo ospite in studio e nel salutarlo ha poggiato una mano sul suo fondoschiena, il pubblico del programma ha infatti tacciato Mara Venier di comportamento scorretto e molestie. Mara Venier e Alvise Rigo nello studio di Domenica in la palpata di Mara Venier l'avvocato della conduttrice, comunque, ha fatto sapere tramite ad Enkronos, che la sua cliente è letteralmente infuriata per quanto accaduto dopo la sua palpatina scherzosa ad Alvise Rigo. Mara Venier poi, sempre tramite il suo legale dice, il commento di Alvise ovviamente è stato chiamato in causa anche il diretto interessato, Alvise Rigo si è espresso sulla vicenda che riguarda lui e Mara Venier e queste sono le sue parole. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.